È stata una bellissima serata. Sì, anche per me. Poi tu hai degli occhi bellissimi. Belli come il design di Panda City Cross. Guarda che roba, Claudia. Claudia, fermati. A volte bisogna fermarsi per evitare l'irreparabile. Ed è proprio per questo che Panda City Cross può avere la frenata assistita. E frena per te. Panda da 7.950 euro con finanziamento meno mille e 500 euro di extra sconto se hai un diesel fino a Euro 4. Claudia, ma ti posso spiegare? Spiegare cosa? Le nuove funzionalità della Panda... Claudia! Claudia! Ciao!